Il Partito Democratico ha lanciato oggi una raccolta firme per chiedere al Comune risposte concrete su alcuni grandi temi, tra i quali i parcheggi che mancano e i lavori in centro storico. Il centro oggi ha due grandi cantieri al corso stretto in Piazza Duomo che stanno rendendo la vita difficile agli esercenti, tant'è che si susseguono le riunioni. Un vero piano parcheggi manca per i Dem e dopo sei anni di amministrazione biondi non c'è traccia di un nuovo parcheggio se non quello di Portaleoni, in cui i lavori sono ancora in corso, il cui progetto però era della vecchia amministrazione dicono, e poi fare centro che va rilanciato. Sui lavori si chiedono inoltre turni notturni per far presto, è un cronoprogramma chiaro ma non solo, perché a livello generale si chiede pure l'attivazione di un tavolo interistituzionale per cercare di portare a casa risultati concreti. La raccolta firme iniziata oggi proseguirà, ci saranno dei banchetti tutti i sabati del mese di marzo, sempre dalle 10.30 alle 12.30. Intendiamo innanzitutto rimettere al centro tutta una serie di questioni che abbiamo posto per tempo. Già nel 2019, attraverso un consiglio comunale straordinario da noi richiesto, fu approvato un ordine del giorno che conteneva tutta una serie di misure, dalla regolamentazione dei cantieri, quindi l'accesso dei mezzi pesanti nel centro storico, l'incremento dei parcheggi, un'incentivazione, un incremento del trasporto pubblico locale. Tutta una serie di misure che servivano appunto a favorire e anticipare quel processo di penalizzazione rispetto al quale siamo assolutamente favorevoli, ma che necessita di politiche alternative e complementari, altrimenti si verifica quello che sta succedendo. Cioè c'è tutta una serie di nodi che stanno venendo al pettine. Le richieste del PD vanno di pari passo con quel pacchetto di proposte lanciato ancora una volta dai commercianti nel corso della riunione di qualche giorno fa. Regole per mezzi pesanti, più navette, parcheggi, riattivazione tapirulana al termine e maggiore decoro urbano. Per quel che riguarda l'assessore Paola Giuliani, che gestisce questi aspetti, ha detto chiaramente che per ora soluzioni di parcheggi nell'immediato non ci sono e insiste sull'uso del terminal di Colle Maggio. È possibile che di tutti i progetti, ad esempio, per cui è stato richiesto un finanziamento del PNRR non è stato pensato, ad esempio, di introdurre la riattivazione del tapirulana, che sappiamo essere una criticità che ci portiamo avanti da anni, come quello dei parcheggi, se ne discute da tantissimo tempo. Non è che l'orloggio riparte da giugno del 2022, quando si è insediata questa nuova amministrazione.